Musica Vai, vai Vai, grazie Allora, noi cerchiamo di giro fare il gioco ovviamente anche sugli esterni offensibili Sono finito! Del Vino eh? Ha fatto buono Napoli e Hong Kong Onda, maledesso te! Onda sulla onda No! Uh! Colucini! Quello che preferisco lezione è un boss! Brodele è un boss! Ah si! Un boss brodele! E' un bagnino brodea! No! Beppiniella! Perché è Beppiniella? No! 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 Bravo! Bravo mondo! Ho capito perchè sei messo la breccia in giro! Sì! Io parlo a passare a voi! Non ti faccio io eh! Un momento interessante! Volevi fare... No! Volevo fare come era l'emozione di vincere! Sì! Vedi che non c'era una maglia io! Che colore giro! Attirava! Voi guardi qui! Sì! Voi guardi qui! Tornando in gioco! Eh! Dettorace! Oh! Eh! E! Sì! Bellissimo! come se sarà o meno confermato del tonaccio vabbè era quello di prima cazzo ce lo vede con noi è un momento un numero negativo alza ti non mi vedo non mi vedo che mi alza no non mi vedo buonaventura ma non buon ottimo mariana sticuosa guarda che tra l'altro vabbè vabbè ci riparte con napoli che manovra in più guarda che c'è guarda che c'è Questa è la francese, è bravo. Ah, addio, ora mi spello. Non ti vada neanche in faccia. No, no, no. Questa ora ho la collezione con tutti i giocatori. Almeno un cartellino, volevo capire come scopo. Iguai. Nooo. E qui avrebbe certamente potuto portarsi in vantaggio. Ah, Gior... C'è Giorginio? Ah, Giorginio. Giorginio, Giorginio. Buona vettura. Ottimo l'intervento del portiere. Cool. Giorginio. Ah, sbaglio. Poi c'era più un bel gol. Dopo una partita fatta di errori. Brutta. Benissimo. Tutto questo ha fatto una partita di errori. Qui vince chi sbaglia meno. Insegna. Iguai. Noi. Vi faccio un bel piccolo. Noi. Noi. Come lo faccio un beluso. Ehi. Chi... Ehi. 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 Noi. Ehi. 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 La ranna. Il pallone con l'intervento facile Il pallone con l'intervento